Prevenire è meglio che curare un detto valido anche per gli psicologi. Se ne è discusso nel convegno professione e innovazione degli psicologi tenutosi questa mattina allo Sheraton Nicolaus Hotel, il servizio di Barbara Cirillo. Innovazione e prevenzione sono queste le parole chiave del primo di una serie di convegni organizzati dall'Ordine degli Psicologi della Puglia in tutte le province della regione per mettere in rete le diverse competenze e affinché l'innovazione, soprattutto per quanto riguarda la nuova forza lavoro sia possibile, bisogna partire dai giovani, come ha dichiarato il presidente del Consiglio dell'Ordine Antonio Di Gioia. Vogliamo raccogliere idee per poi agire, proporre delle azioni costruttive che si possano realizzare nei prossimi quattro anni di questa consigliatura raccogliendo appunto proposte da parte di giovani colleghi che attualmente vivono purtroppo la difficoltà anche di trovare uno sbocco occupazionale. Più occupazione per i giovani dunque, più sinergia con le altre professioni ma soprattutto il potenziamento del ruolo della prevenzione perché lo psicologo non è il medico dei pazzi. Bisogna un po' sfatare il mito che lo psicologo è il cosiddetto medico dei pazzi perché lo psicologo invece lavora sulla prevenzione, lavora sulla promozione del benessere.